Guardate, questo superacido è così forte che corrode la pelle di una coscia di pollo, lasciando dei buchi e addirittura cuocendo la carne. Beh, però se metto dei guanti, alla fine sono tranquillo, non mi corrode la pelle. E invece no, riesce anche a bucare i guanti in stoffa, i guanti in vinile, quelli in lattice e anche quelli in nitrile. Ragazzi, oggi in questo video facciamo degli esperimenti per capire che cosa sono gli acidi e le basi e poi parliamo dell'acido più forte del mondo. L'acido fluoroantimonico Avete presente la scena di Jesse Pinkman in Breaking Bad in cui usa l'acido fluoridrico per sciogliere il cadavere nella vasca che poi si buca la vasca e il pavimento crolla tutto, il soffitto schizza tutto. Beh, in realtà l'acido fluoridrico da solo non è né così acido né così corrosivo da sciogliere un corpo umano. Ma se invece mescoliamo l'acido fluoridrico con il pentafloruro di antimonio otteniamo un acido davvero corrosivo e pericoloso. L'acido fluoroantimonico. Ragazzi, è aperto il canale Geopop su Whatsapp. Seguiteci anche lì perché pubblichiamo dei video improvvisati, magari qualcosa dietro le quinte, che magari qua su YouTube non riusciamo a pubblicare. Quindi iscrivetevi al nuovo canale e torniamo al video. Ora, cosa sono questi fumi bianchi che si vedono quando entra a contatto col pollo? Sono fumi tossici? E poi se guardiamo bene, la carne ti sembra tipo cotta? Cioè, cos'è? L'acido cuoce la carne? Allora, andiamo con calma. Prima di rispondere a queste domande, facciamo degli esperimenti. Andy, passa. Ok. Che ci serviranno per capire cosa sono gli acidi. Eh, sì, però mi servirebbero anche gli occhiali. E anche i guanti. Grazie, gentilissimo. Andy, se ti dico acido, a cosa pensi? Qualcosa di corrosivo. Tipo, che so, qualcosa che si scioglie. Qualcosa forte. Allora, in realtà, acido non è necessariamente corrosivo, ok? Ad esempio, il succo di limone è acido. Anche l'aceto è acido. Però non è che dobbiamo avere paura di queste cose, giusto? Ecco. Infatti, le sostanze chiamate acide si chiamano così perché se le sciogliamo in acqua, si ottiene un pH minore di 7. Facciamo un esperimento. Della, che cos'è tutta questa roba? Allora, qua abbiamo un po' d'acqua, qua abbiamo una sostanza bianca che adesso sciogliamo all'interno dell'acqua e poi valutiamo il pH della soluzione con una cartina tornasole. Ok, abbiamo sciolto la sostanza. Adesso, per capire se si tratta di una sostanza acida o basica, prendiamo una cartina tornasole, la immergiamo all'interno della soluzione e vediamo come cambia il colore. Come vedete è diventata viola e corrisponde circa a 13-14. Di conseguenza la soluzione è basica perché il pH tra 7 e 14 significa che la sostanza è basica e infatti questa era soda caustica. Ma se invece prendiamo un'altra sostanza, adesso svuotiamo questa e la riempiamo di nuovo con acqua normale, se sciogliamo un'altra sostanza all'interno, un po' di questa sostanza, non vi sveliamo che cos'è. Anche in questo caso misuriamo il pH, prendiamo un pezzettino di cartina tornasole. Come vedete si è colorata di rosso, arancione rosso che corrisponde a un valore di 2 circa e essendo un valore compreso tra 0 e 7 abbiamo ottenuto una soluzione acida. Infatti quello che abbiamo sciolto era acido tartarico. Se invece misuriamo il pH dell'acqua normale, cosa succede? In realtà questa è acqua distillata, ma se volete abbiamo fatto un video sull'acqua distillata. Misuriamo il pH dell'acqua distillata, come vedete è a pH circa 5-6 leggermente acida. Se volete sapere perché è leggermente acida l'acqua distillata abbiamo fatto un video riguardo. Bene, abbiamo capito che cos'è la scala del pH. Esistono però degli acidi molto più forti dell'acido tartarico, come ad esempio l'acido solforico. L'acido solforico in realtà non si trova in natura, si produce in laboratorio a partire dallo zolfo e si usa nei laboratori di ricerca, ma anche ad esempio per produrre fertilizzanti. Ecco, l'acido solforico diciamo è l'acido normale più forte. Tutti gli acidi più forti dell'acido solforico, come il nostro acido floroantimonico, vengono chiamati superacidi. Per questi acidi non si può più utilizzare il pH come scala, ma si deve utilizzare un'altra scala chiamata scala di Ammet o funzione acida di Ammet. Anche qui, come per il pH, più basso è il valore e più forte sarà l'acidità. Pensate, l'acido solforico puro nella scala di Ammet ha un valore di meno 12, mentre l'acido floroantimonico ha un valore di circa meno 28. Ciò significa che è 10 milioni di miliardi di volte più forte dell'acido solforico. E con questo si aggiudica la nomea dell'acido più forte del mondo. Attenzione però, perché la parola acido non va confuso con corrosivo. Con corrosivo, infatti, si fa riferimento alla capacità di una sostanza di degradare un solido, come ad esempio un metallo o la carne del pollo. Con acido, invece, si fa riferimento ad un aspetto un po' più chimico. Dobbiamo entrare a livello nanoscopico. Un acido è una sostanza che ha la capacità di donare H+, tipo HCl cede H+, a una molecola d'acqua. L'HCl, quindi, è un acido e infatti si chiama acido cloridrico, quello del nostro stomaco. Ed è per questo che si chiama pH. È una scala che ci dice quanti H+, ci sono in acqua. Ma torniamo alla nostra coscia di pollo. Rispondiamo alla prima domanda. Che cos'è questo fumo bianco che si forma quando viene versato? In pratica, l'acido è così instabile che si decompone facilmente e produce dei fumi di acido cloridrico. Quindi quei fumi bianchi lì sono acido cloridrico e sono estremamente tossici. Passiamo alla cottura. Effettivamente, l'acido clorantimonico cuoce la carne di pollo, ma chiaramente non è la stessa cosa che cuocerlo al forno. Però a livello molecolare, quello che succede è la stessa cosa. Il calore o gli acidi è come se strizzassero le proteine. In chimichese si dice denaturare le proteine. Strizzandosi quindi perdi tutti i succhi della carne ed è per questo che la carne troppo cotta risulta secca e stopposa. Quindi anche gli acidi cuociono la carne. Ecco, questo comunque non è l'acido più corrosivo. È l'acido più forte dal punto di vista dell'acidità, ma non della corrosività. Infatti, una miscela di acido solforico e acqua ossigenata, chiamata soluzione piragna, riesce a vaporizzare, letteralmente a vaporizzare, qualsiasi sostanza organica. Cioè, guardate questo mandarino. Se mettiamo un pezzettino di mandarino dentro la soluzione piragna, prima si trasforma in carbonio, vedete, è nero, e poi il carbonio se ne va sotto forma di anidride carbonica gassosa. Cioè, letteralmente vaporizza qualsiasi cosa. Ecco, probabilmente la soluzione piragna è la più corrosiva in assoluto per la materia organica, mentre l'acido flora antimonico non così tanto. Bene, abbiamo capito cosa sia e quanto pericoloso potrebbe essere questo acido. Ma a cosa serve? Ha qualche applicazione? A livello industriale, l'acido flora antimonico non ha così tante applicazioni. Mi sembra anche abbastanza ovvio il perché. È estremamente reattivo. Pensate, reagisce violentemente anche con l'acqua. Deve essere conservato solo all'interno di contenitori speciali, come ad esempio in Teflon o in PFA, che sono due plastiche estremamente resistenti agli attacchi acidi. E infine decompone facilmente rilasciando gas tossici di acido fluoridrico. Insomma, è difficile averci a che fare con questo acido. In laboratorio e in ambita di ricerca invece trova qualche applicazione particolare. Ad esempio può essere utilizzato per produrre delle plastiche a partire da un particolare tipo di olio di colza, oppure come una sostanza che velocizza delle reazioni dove all'interno c'è il benzene, che è un componente della benzina. Vabbè, sono comunque cose estremamente tecniche e specifiche e se volete approfondire vi lasciamo il link degli studi in descrizione. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato interessante anche solo per entrare all'interno del mondo degli acidi, dei superacidi, o per capire che c'è una differenza importante tra acido e corrosivo. Ad ogni modo, grazie mille per aver guardato questo video e noi come sempre ci rivediamo qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!